Storie di esperienze di vita ed importanti riflessioni anche sul lavoro del personale medico e sanitario durante il covid. È decisamente ricca di significato la visita di Laura Boldrini a Bari, l'ex presidente della Camera ed attualmente parlamentare per il Partito Democratico, ha presentato all'Istituto Tumori Giovanni Paolo II il suo libro Meglio di Ieri. Qui racconta la malattia che l'ha colpita lo scorso anno, un tumore raro al femore della gamba destra, uno sprone a combattere non solo il nemico dentro di noi ma anche a contrastare i condizionamenti e le discriminazioni che mirano a trasformare lo stesso in una macchia indelebile. Le persone si devono concentrare a riprendersi e ritornare alla vita normale, non a nascondere la malattia. E poi il libro vuol far conoscere anche come è la vita dell'ospedale, di chi ogni giorno entra in sala operatoria e ci sta 12-14 ore. Importante, secondo la Boldrini, salvaguardare potenziare la sanità. La ricerca è fondamentale in questo, non dirò mai abbastanza grazie a chi si impegna nella ricerca. Quindi penso che il libro vuole essere un riconoscimento al nostro articolo 32, che è un articolo fantastico. La nostra Costituzione ha un articolo che è un portento. Tutti hanno diritto alle cure, anche gli indigenti. E questo, guardate, non è ovunque così. Noi dobbiamo apprezzare il fatto che, è vero, a volte la nostra sanità ha dei problemi, è vero, sono stati fatti tagli, tutto vero. Ma dobbiamo imparare la lezione adesso. E la lezione, secondo me, è che mettere risorse nella sanità pubblica vuol dire investire.